Cari amici, il governo Conte Bis è appena entrato in carica ma ha già un record di cui leggiamo sul Corriere della Sera, un dossier sul Mediterraneo a firma di Fiorenza Sarzanini. Qual è il record? Questo. Profughi dall'Africa e il record di arrivi, 300 in tre giorni a bordo dei Barchini. Questi sono i migrati che arrivano appunto su Barchini, che approdano direttamente in spiaggia o entrano in porto senza che nessuno li fermi, arrivano in Sicilia ma anche in Calabria e anche in Sardegna. La ministra dell'Amorgese, la ministra dell'Interno, ha affermato di avere messo un dispositivo, un ordine, per mantenere alta la vigilanza sul mare. Il ministro mi vuole informarla che a quanto pare il suo dispositivo non funziona. A parte questo si sta preparando il congresso di Malta, cioè tra qualche giorno le potenze europee, potenze si fa per dire, Comunque le potenze europee si incontreranno a Malta per discutere della questione dei migranti e per, nelle speranze dell'Italia, per avere una redistribuzione automatica degli immigrati nei vari paesi europei. A parole tutti bravi, Macron è entusiasta, ha stappato la champagne con Mattarella, ci mettiamo sicuramente d'accordo. La Germania ha detto di essere disposta a trattare e anche Malta ha detto di essere disposta a collaborare. Però infatti sappiamo che i francesi e gli immigrati ce li rispediscono indietro, i tedeschi ce li rispediscono indietro e ieri Malta, tanto per intenderci, ha negato l'ingresso di un barchino con 45 persone a bordo per ore e ha ceduto soltanto quando a bordo la situazione si è fatta disperata per la totale mancanza di acqua. Quindi a parole tutti bravi, però nei fatti l'hot spot che sta scoppiando è quello di Lampedusa, l'hot spot è il punto di raccolta dove gli immigrati vengono identificati per la prima volta. Ieri sono arrivati in 200 su tre imbarcazioni diverse e l'hot spot subito è andato nel caos più totale. A questo si aggiunge un'altra questione, cioè che le navi ONG non è che hanno smesso di circolare per il Mediterraneo. Attualmente c'è la Ocean Vikings che ha 109 persone a bordo, ha rifiutato di attraccare in Libia in quanto la Libia non è considerata da questa nave ONG un porto sicuro e quindi farà rotta verso Malta o verso l'Italia. Se farà rotta verso l'Italia cosa dirà il governo Conte? Per ora rimaniamo nell'incertezza. Una cosa è sicura, dall'altra parte del Mediterraneo, al di là delle condizioni buone del mare, qualcuno pensa di poter venire in Italia più facilmente adesso che non c'è Matteo Salvini e la politica dei porti chiusi. Non è in nessun modo una difesa di Salvini, è un dato di fatto una constatazione. Nero su bianco, Corriere della Sera di oggi.